Una commedia è completamente folle, no? C'è il manifesto. Secondo me non è vero, sei d'accordo? Non lo so, dimmi tu. Secondo me in realtà, appunto, chiaramente è una commedia, ma la follia è quella che racconta, non è molto diversa dalla follia che troviamo ogni giorno, no? Sì, diciamo, la follia, può essere un po' generico, diciamo che succedono tante cose, mi sembra in una chiave, forse con una libertà maggiore del solito, forse è questo che fa sì che lascia entrare tante cose diverse, dei contrasti, delle contraddizioni, ma in fondo è anche il ritratto di questa Lucia, e quindi cosa c'è dentro questa Lucia, cosa c'è dentro ognuno di noi, tante cose e non esattamente in ordine, mai, per fortuna. Senti, invece, la Madonna, interpretare la Madonna in questo contesto, come è andata? E in questo contesto era interessante perché io ricordo che quando abbiamo girato ho pensato in un momento, forse è strano che faccio la Madonna in Italia, avevo un po' di paura, cosa dicono, bla bla bla, ma comunque non è la Madonna della religione, è la Madonna che è la credenza, credenza si dice? Sì, 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 la fede. La fede, la non credenza. No, perché la credenza può essere anche un... Ah, ok, la capito. Sì, è solo... è una parte di Lucia che vuole credere a fare delle cose. Sì, credere nella vita. Eh, sì, l'importante. È anche molto fisica questa Madonna. Sì, perché... Perché se non riesce a ottenere quello che ha sempre ottenuto nella storia... Non gioca. Non gioca. She doesn't play games. No, perché è arrivato un momento importante, se non si cambia, si muore. Come... si muore? Sì. Sì. Poi è fisica. Sì. Senti, invece per chiare questo appunto, questa ironia, questa comicità, c'è comunque un contrasto chiaro, no? Tra la situazione e anche il modo per esempio in cui Alba recita questa, no? Con in realtà molta assedità, molta... la capacità ha anche questo contrasto, no? Quindi come mai hai pensato a lei invece per un ruolo comico che, come dire, purtroppo spesso si sa che le etichette fanno sì che si immagini Alba in un ruolo diverso, ecco. Ma quando scrivo, di solito non penso agli attori che possono essere. Poi quando ho finito di scrivere, stavolta ero molto contento. Ho detto, ah, che bella storia che ho scritto. Poi ho pensato, adesso chi la fa? Cioè, non essendo proprio una commedia in cui bisogna per forza ridere, ridere, ridere in ogni momento, ma è una commedia che apre i toni, ridi, poi improvvisamente ti commuove, poi torni a ridere e poi hai paura. Poi questo è molto, secondo me, liberatorio. Però funziona per me se credo molto a questa persona, a questo, e chi mi può far credere questa persona, oltre alla sceneggiatura? L'attore, in questo caso l'attrice. La prima a cui ho pensato, l'unica a cui ho pensato, è stata Alba Rockwacken, sono andato da lei e ho detto, Alba, se tu fai questo film lo faccio, se no non so chi altri. E lei ha detto di sì, per cui sono stato piuttosto affortunato. Alba, oltre al talento, secondo me, straordinario che fa di lei, secondo me, una delle attrici più importanti europee della sua generazione, è una che è affetta come da una forma compulsiva di verità. E questo per me è molto, molto affascinante. E invece, cosa ti piace in Gianni Zananzi per tornare a lavorare con lui dopo la torta di noi? Il fisico. Sì. È un sex symbol. Sì, no. Senti, non posso... Scusa. No, è la torta di noi, sì. Comunque mi piace come scrive, mi piace come persona, come regista, come tutto. Sì? Sì, tutto. È lo stesso anche per me, perché comunque anche un attore scrive, quando recita è la sua scrittura. E mi piace come recita, come lavoriamo insieme, anche come persona. Per cui è... Ma questo è un incontro, ma anche con Alba è stato così. Sì, penso che io penso che gli attori per me non sono degli semplici esecutori, ma diventano dei coautori del film. Quindi è bello, è come mettere insieme una band, una band, un gruppo, quindi c'è quel tipo di sintonia e familiarità.